è arrivata la nuova app di radio video music disponibile su google e apple store e naturalmente anche su tuning una radio non è solo musica non è solo speaker e pubblicità non è una cosa che si ascolta e basta una radio è sensazione una radio è quella compagnia invisibile nelle notti buie dei lunghi e interminabili viaggi attraverso paesi e distese infinite stai lì ti sintonizzi semplicemente su quello che vuoi proprio come i sogni una radio ti emoziona ti fa ridere ti fa piangere ti fa ballare spensierato ti fa staccare la spina e ti mette in sintonia con il tuo io più intimo una radio non si ascolta una radio si sente radio video music